Ragazzi avete mai provato se avete un hoverboard a giocare a pallone con l'hoverboard? Io sì Quando avevo quegli altri hoverboards ce n'ho ancora però intendo che giocavo sempre Solo che questo è il più potente quindi tiri più forti Vabbè Ovviamente la tradizione deve rimanere E si può fare anche al coltario Quindi da qua Rie Boom Rie Ci posso riuscire? Non è una palla da palla a canestro Quella è una palla da palla a canestro Soltanto che diciamo che è rotta La sgonfia Abbiamo anche provato a gonfiarla Ma si sgonfia di nuovo Non è molto attibile Bilocare anche a resto C'è l'impasto forte Cercavo di fare il canestro così Sì, ma credo sia un po' impossibile No Niente Cercavo di farla finire nel fondo solo A presto ALBRE LA Tutta Grazie a tutti. Non l'ho fatta. C'è anche una novità che io finalmente ho imparato ad andare a scoprire. Allora, mettiamo la velocità veloce. Allora, mettiamo la velocità veloce. Ciao ragazzi! Ciao! 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 Ciao!